Siamo qua da circa un quarto d'ora e ne abbiamo presa una. Cioè l'ha presa una. Se ne do la canna a mano subito la prende, quindi... ...pevo rischio e peschi lei. Comunque la ragazza cresce bene. Ora metto gli stivali... ...e ci addentriamo verso il recupero. Carpa non troppo grossa, sarà sui... ...ma penso 4, massimo 5 kg. Ok, sono messi stivali. Com'è, è emozionante? Sì, è qui, guarda. Sì, l'altro è qui, è in mezzo al lago. Vai, vai. Com'è, tira? Tira o no? Sì. Come potete vedere questa qui è una canna... ...di 3,20 m... ...progettata per la pesca dalla barca. Ma è qui, lo vedi? No, no, non è qui, va tranquilla. Ti tira. Ma male i bracci. Eh, hai visto? Ma in palestra? Ora faccio fargli la palestra. Vai, vai, recupera. Ma è qua, ma sei scemmolo. Ok, allora sei qui, dammi... Guarda dove è qui. Ok. Ok, ok. Eh, ma è ancora giù, eh. Te recuperala. Allora, adesso che è qui sotto non lo fa più di tanto, fallo più leggero il movimento, eh. Ok. Ora è qui sotto per davvero. Allora, aspettati che ora riparte, eh. No. Ora ci può stare che riparta. Sì, sì, sì. Ok. Ok, allora dammi a me la canna, vieni. Sì. Ahia. L'uscita che la perdo io, sai. No. Questa è una canna stanca, non è come se l'altro. risponde. Sì, ma è inoltre. Vieni a schiena, eh. Ti fai piantando a schiena, mi fai piantando a sui ricerchi. Divertente, però! Oh, il braccio. Non è un tonno, però, ragazzi, si possa scegliere che fa divertire davvero. Invece no, è una bella carpa. Boia. È quasi rotta. Madonna. Come si fa a prendere? È una bella. È un po' di più exacto qui, e un po' di più exacto che si è puri valga. Che è una bella è seria! Sì, non c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? Grazie a tutti. La mia potrebbe tirarla da qui. Sono 3 kg. La feccia è come quell'altra. Più piccina. La mia potrebbe tirarla da qui. La mia potrebbe tirarla da qui. Mi sentirebbe le vostre canne dietro. Le levi tutte. La mia potrebbe tirarla da qui. 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 La mia potrebbe tirarla da qui.